buongiorno amici oggi facciamo i cracker con i semi inserisco in planetaria 150 ml di acqua e 60 ml di olio di oliva 7 grammi di sale e aziono la planetaria aggiungo 150 grammi di farina per pane nero 150 grammi di farina di segale e aggiungo infine 150 grammi di semi misti aumento un poco la velocità e finisco di impastare sul tavolo da lavoro ho preso un foglio di carta forno gli metto sopra l'impasto e metto un altro foglio sopra e col mattarello stendo il più possibile l'impasto conviene farlo di altezza non più di 2-3 mm e metto il tutto su una leccarda poi come vedete faccio le losanghe ho già acceso il forno a 230 gradi e resterà in forno circa 15 minuti ecco amici questi sono i cracker vi lascio la ricetta qui sotto e ci vediamo alla prossima ricetta ciao